Nuovi bus per collegare Ponte Gagnano a Giffoni-Vallepiana. Avviata una petizione pubblica dal presidente dell'Associazione Asso Sviluppo Sardone, Gianfranco Genovese. L'iniziativa per lo sviluppo viario della frazione di Sardone è finalizzata a rendere un servizio alla collettività, affinché anche i mezzi pubblici possano raggiungere la vicina colinetta, per rendere meno difficoltà ai residenti, soprattutto ad anziani e a chi non ha mezzi propri, per potersi lecare al confinante comune epicentino, per poter effettuare la spesa ogni giorno. Gli abitanti della piccola frazione giffonese, geograficamente, sono molto vicino a Ponte Gagnano ed è stato sempre utile per loro rivolgersi al più grande comune epicentino, L'Associazione Asso Sviluppo Sardone, che promuove l'esigente degli abitanti, ha promosso una petizione pubblica per la raccolta di firme finalizzata alla richiesta di inoltrare agli organi competenti per avere una linea urbana che colleghi la frazione con Ponte Gagnano-Fagliano. L'iniziativa di Genovese ha entusiasmato gli abitanti di Sardone, che da lungo tempo si sentono penalizzati. Attraverso i social, il Genovese sta raccogliendo una serie di adesioni virtuali. La richiesta sarà inoltrata innanzitutto ai rispettivi sindaci del Picentino, in primis a quello di Ponte Gagnano, Giuseppe Lanzara, e dal suo collega di Giffoni-Vallepiano, Antonio Giuliano.